Ucraina, Ucraina, il ministro russo Lavrov e il presidente dell'Ucraina Zelensky, anche Lavrov, ministro degli esteri della federazione russa, si vede che segue i video di Serafino Massoni, ma quanto tempo che hanno impiegato quelli della federazione russa a capire bene la situazione relativamente al presidente Zelensky, Zelensky, che cosa leggo sul fatto quotidiano? Che cosa leggo? Leggo che il ministro degli esteri della federazione russa, Lavrov, che è una persona simpatica, parla di Zelensky, di Zelensky, sì, Lavrov dice del presidente Zelensky Le stesse cose che ha sempre detto Serafino Massoni, Serafino Massoni, si vede che il ministro degli esteri, Lavrov, è stato informato dei video di Serafino Massoni, Perché Serafino Massoni, da tanto tempio, che va dicendo che il presidente dell'Ucraina, Zelensky, è un ebreo, ma è uno di quegli ebrei che non amano la stella di David, capito? E' più vicino alla croce uncinata, motivo per il quale lo Stato di Israele, cioè la stella di David, non ha mai mandato le armi all'Ucraina, capito? Solo ultimamente lo Stato di Israele si è dovuto piegare a mandare all'Ucraina dei pregiati giubbotti antiproiettili E avremmo dovuto fare così anche noi, anche noi, anche noi dell'Eurozona e del patto atlantico, capito? Perché noi tutti dovremmo seguire ciò che fa lo Stato di Israele, lo Stato di Israele non si è mai fidato dell'Ucraina, perché lo Stato di Israele è intelligente, Lo Stato di Israele lo sa che come ci sono dei cristiani che non vogliono bene alla croce, così ci sono degli ebrei che non vogliono bene alla stella di David E magari sono più vicini alla croce uncinata, capito? Lo Stato di Israele non ha mai mandato armi all'Ucraina, ma come ve lo devo dire, mi devo forse tagliare la cuna per farvelo capire Lo Stato di Israele non ha mai detto le parolacce a Vladimir Putin, capito? Come ha fatto Luigi Di Maio, che ha detto che Vladimir Putin è il peggio di un animale E come ha detto il presidente americano Joe Biden, che mi pare che abbia detto che Putin sarebbe un macellaio, capito? Ah, prima che scoppiasse la guerra Joe Biden disse a Vladimir Putin Tu, Vladimir Putin, sei un assassino E Vladimir Putin risposi Chi lo dice? Lo è Perché nell'antica Roma Si diceva Ecco, scusazio, non petita colpa manifesta Ovvero, la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'ovo, capito? Per cui quando Joe Biden disse A Vladimir Putin, tu sei un assassino Vladimir Putin, senza scomporsi, risposi Chi lo dice? Lo è Perché la lingua sbatte sempre dove il tetetuale, capito? Capito? Adesso anche l'Afro L'Afro Si è messo sulla posizione di Serafino Massoni E Serafino Massoni è questo qua, vedete? Il marinaro delle Attille, vedete? Un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich Dentro il Terzo Reich, vedete bene? Stella di Davide e Croce Uncinata Tutto ciò che avviene in questo fondo Si muove attorno alla Stella di Davide e alla Croce Uncinata Ma pensate voi che lo Stato di Israele ha il sistema antimissilistico migliore che ci sia al mondo Che si chiama Cupola, Cupola di Ferro E quel furbacchione dei Zereschi Tanto tempio fa lo voleva comprare Il sistema antimissilistico ebraico israeliano Cupola di Ferro Ma lo Stato di Israele ha detto Nein! No! Noi dello Stato di Israele A te, presidente dell'Ucraina Non te lo vediamo È il nostro sistema antimissilistico Cupola di Ferro Perché noi dello Stato di Israele Siamo informati dal Mossad E il Mossad è il servizio segreto più potente che ci sia al fondo Capito? E se il Mossad ha detto Allo Stato, al governo israeliano Ha detto Ha detto governo israeliano Che dentro l'Ucraina c'è una vasta Una vasta comunità ebraica Che non è contento Non è contenta questa comunità ebraica che sta in Ucraina Di come vanno le cose in Ucraina Relativamente all'antigiudaismo Antigiudaismo Perché in Ucraina c'è tanta, tanta, tanta È croce uncinata E noi dello Stato di Israele Siamo la stella di David Capito? Siamo la stella di David Ora anche l'Afro Ministro degli Esteri Di Vladimir Putin Si è messo sulla stessa strada E relativamente A Zelensky Ha detto Embè Embè Che cosa vuol dire Che Zelensky sia un ebreo E ha tirato fuori Lavrov Ha tirato fuori La storia Che anche Hitler Forse c'aveva del sangue ebraico Però Hitler non gli voleva bene Agli ebrei Anche se C'aveva del sangue ebraico Ora Che Hitler c'avesse del sangue ebraico Ancora non è accertato Però è accertata una cosa È accertata Che Ci sono degli ebrei Ci sono degli ebrei Questo è storicamente accertato Eh Ci sono degli ebrei Che non gli vogliono bene Alla stella di David Come? Come ci sono Dei cristiani Che non vogliono bene Alla croce Capito? Come ve le devo far capire Queste cose? Ma finalmente Le ha capite pure La federazione russa Perché queste cose Io le ho lette Sul fatto quotidiano Dove? L'Apro Che si vede Che è stato informato Dai video Dei Serafino Marsoni Ora diranno Ballo il fatto Che tutti Noi Che noi dell'Occidente Vogliamo difendere l'Ucraina Perché Il presidente dell'Ucraina Sarebbe l'ebreo Ma io vi ho sempre avvertiti Vi ho sempre avvertiti Che non conta un fico secco Il fatto che Il presidente dell'Ucraina Zelensky sia un ebreo Non conta un fico secco Non gliene frega Un fico secco Alla stella di David Che il presidente Zelensky Sia un ebreo Perché la stella di David Lo sa Lo sa Lo stato di Israele Lo sa Che come ci sono Dei cristiani Che non vogliono bene Alla croce Così ci sono degli ebrei Che non vogliono bene Alla stella di David Ah che ora Anche l'Apro Lavrov Ministro degli esteri Del governo russo Ministro degli esteri Di Vladimir Putin Si è messo Sulla stessa posizione Di Serafino Massoni Perché Serafino Massoni I propri video Li lancia Urbi e Torbi Li lancia Tutto il fondo Capito Perché Serafino Massoni E questo qua E questo qua Eccolo qua Serafino Massoni E si vede che adesso Anche il ministro Lavrov E' stato informato Di chi è Serafino Massoni Serafino Massoni Ha già compiuto 82 anni L'opera Sulla grande piattaforma Mondiale YouTube E su YouTube Serafino Massoni Ha circa 12 12 12 12 Milioni Di visualizzazioni Ma soprattutto Serafino Massoni E' l'autore Di questa opera Un romanzo storico Il Marinaio delle Antille Ambientato dentro Il Terzo Rai Capito Capito Magari un giorno Quest'opera Questo romanzo storico Verrà tradotto In lingua russa Capito In lingua russa Verrà tradotto Che bello Che bello Che anche Ora anche Il ministro Lavrov Lavrov Che è Una persona Distinta Una persona distinta Ha capito Ha capito Che si deve parlare Del presidente Zelensky Perché anche Se è un ebreo Non conta Un figo secco Ma lo sa Lo Stato di Israele Lo sa Che non ha Nessuna importanza Che il presidente Zelensky Sia un ebreo Perché lo Stato di Israele Lo sa Che come Ci sono Dei cristiani Che Non amano La croce Così Ci sono Negli ebrei Che non amano La stella Di David Motivo Per il quale Lo Stato di Israele Non gliele Ha mai mandate Le armi All'Ucraina Solo Ultimamente Lo Stato di Israele Si è Limitato A mandare All'Ucraina Tantissimi Pregiati E giubbotti Antiproiettili Per cui Dovremmo fare Così anche noi Specialmente Il nostro Premier Mario Draghi È il nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio Dovrebbero fare Come ha fatto Lo Stato di Israele Cioè Mandare All'Ucraina Tanti Pregiati Giubbotti Antiproiettili Va bene Ma insomma Come ve le devo dire Premier Mario Draghi Ministro degli Esteri Luigi Di Maio Pregiata Ursula Fonda Lion Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Tutti come lo Stato di Israele Ma perché Non gli volete bene Allo Stato di Israele Ma perché Lo Stato di Israele Non gliel'ha mai Mandata le armi All'Ucraina Perché Perché lo Stato di Israele Sa che dentro L'Ucraina C'è una grande Comunità Ebraica Che si lamenta Dell'anti-giudaismo Che c'è in Ucraina L'anti-giudaismo Sì 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 Benché Il Presidente dell'Ucraina Zelensky Sia un ebreo Le cose Per gli ebrei In Ucraina Non vanno bene E lo Stato di Israele Lo sa Per cui Lo Stato di Israele Guarda con sempatia All'operazione speciale Gestita da Vladimir Putin Che vuole De 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 Razificare l'Ucraina E ogni processo Di De 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 Razificazioni Purtroppo Comporta morti E distruzioni Come avvenne nel corso Della seconda guerra mondiale Quando si dovette De 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 Nazificare la Germania Che vende Ra 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 Rasa al suolo Per cui Coloro Coloro Che adesso piangono Per le morti E distruzioni Che ci sono in Ucraina Si dovrebbero mettere A piangere A piangere A piangere Anche per le morti e distruzioni che ci furono in Germania nel corso della seconda guerra mondiale perché per venire denazificata la Germania dovette essere rasa al suolo le denazificazioni ci sono fatte così e lo Stato di Israele ne sa queste cose lo Stato di Israele è sorto nel 1948 e la prima nazione al mondo a riconoscere lo Stato di Israele fu l'Urt di Josef Stalin e lo Stato di Israele non se ne dimentica queste cose lo Stato di Israele non si dimentica ciò che ha fatto l'Armata Rossa l'Armata Rossa, l'Armata Rossa e lo Stato di Israele è schierato dalla parte di Vladimir Putin che sia chiaro, che sia chiaro, che sia chiaro anche se lo Stato di Israele è vicino agli Stati Uniti però in questa circostanza lo Stato di Israele è ancora più vicino alla federazione russa perché Vladimir Putin vuole denazificare l'Ucraina e ogni processo di denazificazione comporta le distruzioni come è avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale ma come ve le devo dire queste rose per cui ora anche il ministro Lavrov ha capito ciò che ha detto, ha sempre detto Serafino Massoni ciò che sta dicendo lo Stato di Israele allo Stato di Israele non gliene importa un figo secco che il presidente dell'Ucraina Zelensky sia un ebreo perché lo Stato di Israele lo sa che come ci sono dei cristiani che non amano la croce così ci sono degli ebrei che non amano la stella di David ma come ve le devo dire queste rose come devo forse tagliare la gola per farvele capire vabbè cari amici io qua mi fermo nel risultato di questo video vi lascio la notiziona che è apparsa sul Fatto Quotidiano per cui a tutti voi cari amici tanti cari saluti da ma dal Marinaio delle Attille